Giordano Bruno era quello che all'interno del XVII secolo sosteneva con convinzione che la Terra fosse rotonda e girasse intorno al Sole, la Luna girasse intorno alla Terra, i pianeti tutti giravano intorno al Sole e il Sole insieme a tutto questo insieme girasse per l'universo per i cazzi suoi. Mentre la Chiesa sosteneva che la Terra era piatta e il Sole girasse intorno alla Terra e la Luna girasse intorno alla Terra e le stelle girassero intorno alla Terra e i pianeti girassero intorno alla Terra e le nebulose girassero intorno alla Terra e le galassie girassero intorno alla Terra e tutto l'universo girassero intorno alla Terra. Ma cuminghia semmo, cuminghia semmo, nudo semmo. Cosicché Galileo Galilei a Giordano Bruno Per un po' Ma tu ne hai le prove di questa tua teoria Della terra rotonda che gira in donna al sole No, quale prove? A me mi basta la ragione Ed effettivamente come fa la terra essere piatta E tutto l'universo gira in donna a noi? Come india semmo Cosicché puntualmente la Chiesa convocò Giordano Bruno Accusato da un invame di dire eresie E la Chiesa gli chiese appunto Che le tue sono eresie Perché non ti redimi? Giordano Bruno non si redimeva Non si voleva redimere Perché lui sosteneva che la terra era rotonda E tutto, tutto, siamo niente E la Chiesa dice Ma Giordano, ma guarda che verrai condannato Non hai, non hai paura di ascoltare la sendenza? Potrebbe essere una sendenza molto grave Allorché Giordano Bruno rispose alla Chiesa Avrete più paura voi nel pronunciarla Che io nell'ascoltarla U bruciaro U bruciaro vivo Bruciato vivo In pubblico Perché sosteneva Che la terra era rotonda E che girasse indorno al sole Questo era Giordano Bruno O forse dovrei dire Questa è la Chiesa Giordano Bruno era Ma la cosa che Fa più raccrapriciare E che quando bruciaro vivo Il popolo Esultava Oh caro Ci vai il software Era semplicissimo Ma vai Ma vai A saperlo proprio Tale, tale, tale Tale, tale